L'ANAS ha tracciato un bilancio del weekend da bollino nero per il traffico che ha interessato le autostrade e le strade di competenza dell'ente nel passato fine settimana di controesodo. Le criticità erano attese ma appare senza far registrare forti disagi. Gli inevitabili rallentamenti e le lunghe code in un fine settimana in cui era previsto il maggior numero di rientri dalle vacanze verso le città, ma secondo l'ANAS il traffico è stato scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale. I volumi di traffico, spiegano, sono stati sostenuti già a partire da venerdì pomeriggio con flussi consistenti anche in direzione delle località turistiche. La giornata più calda però pare sia stata quella di sabato con il controesodo. Traffico, che riferiscono, si è registrato prevalentemente lungo le dorsali adreatiche, ioniche e tirreniche. Domenica ancora di traffico intenso ma anche in questo caso scorrevole e quindi con pochi disagi. Le criticità con intensità di traffico si sono registrate anche nei giorni successivi, come ieri, con qualche problema provocato da incidenti e da eventi non prevedibili, come il caso del tamponamento a catena verificatosi ieri sull'A2 del Mediterraneo all'interno della galleria Castelluccio a Petina, dove per alcune ore il traffico è stato bloccato e su cui sono dovuti intervenire gli operatori dell'ANAS e gli agenti della pulizia stradale per cercare di ripristinare regolare traffico autostradale. Un grande lavoro con l'ANAS che, per far fronte all'emergenza preventivata, ha predisposto un piano di gestione dell'esodo estivo sulla propria rete di competenza con circa 1.100 automezzi, 5.236 telecamere fisse, 1.400 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti. Il monitoraggio H24 della rete, dell'assistenza per il pronto intervento, è stato gestito con 200 operatori impegnati tra la sala situazioni nazionali e le 21 sale operative territoriali, tra cui anche quella dell'A2 del Mediterraneo, che opera in affiancamento con la polizia stradale.